Ciao a tutti amici, la season 3 di Fortnite ormai ci ha portato un sacco di momenti fail e i momenti epic win tutti documentati nei video e quindi nel video di oggi andremo a vedere tutti i migliori momenti che i giocatori sono riusciti a registrare mentre giocavano a Fortnite scrivete nei commenti qual è la cosa più strana che vi è successa nel gioco dal momento dell'uscita del nuovo capitolo mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi altri video come questo mettetevi belli comodi ed io do un caldo benvenuto a tutti i nuovi arrivati invece a tutti i miei vecchi amici bentornati ok questa forse la già conosco nooo è andato dall'altra parte mi sa che volevano andare completamente dall'altra parte invece così stanno andando in safe forse non volevano finire così oh dove è andato a finire bene bene adesso guardate dove è finita la sua card adesso non riusciranno neanche a prenderla nooo nooo bruttissimo il momento quando ti spaccano la ragnatela internazional aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai col tallone si è beccato il... ha beccato il pavimento no ma come? ma come? aaaaaaaaaaaaaaaaaaahhh debile mio sto debile non ha funzionato la nuova meccanica dal... di arrumpicarsi lì ok abbiamo la mitraglietta nooo nooo eh pota se ti becchi... se ti becchi una col pompa doodle, quina skin hai tu doodle? è questo doodle? bro nooo fottuto nooo nooo comunque mi... mi manca un po' nooo non si era ancora caricata vecchio nooo non mi carico voglio avere lo sguante nooo nooo bello questo comunque quando vedo la grafica da ps capisco già che sarà una roba stra divertente perchè solitamente non ci sono tanto giocatori molto 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 bravi che giocano con quella grafica ooo madonna ma che shot che gli ha fatto ehm era un flick della madonna raga ehm figa secondo me cade questo qua a vederlo così mi sa che cade ah no ah no vedrai vedrai già a vedere come si muovono già posso predire i loro movimenti oh va da questa va da questa che fa? va da questa qua eeeh eeeh figa non si aspettava neanche lei di fare una roba del genere ma in verità uh ma vecchio nooo non ci sta bellissimo questo video figa è andato tutto a posto oh ma cos'era? ma dov'era? ma che cazzo era? ma che cazzo era? ah volevi buttargli sul coso uh figa poverino ah lo ucciderà ah lo ucciderà con il... madonna bellissimo questa clip prima l'ha fatto scoppiare con le bombe con le granate ma vecchio ma quanto sta laggando questo qua quanto sta laggando ma vecchio ah sono morti tutti e due bello 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 ah a me manca l'arco cazzo era bellissimo l'arco ma che muore figa c'ha ancora un botto di materiali il tipo oh uh shiton cazzo che colpo figa questo è bravino dai questo è bravino uh questo è veramente bravo è un po' lento però cazzo fa le cose... fa tutte le cose molto... molto fluide figa bello quando... a me piace quando la gente gioca così proprio... è proprio esteticamente bello quando la gente si muove così bello raga è per quello che vi dici vi ricordate non so in un video avevo detto che a me piace vedere i giocatori da pad perché quelli bravi si muovono in quel modo lì c'è tipo stra fluido è una roba bellissimo da da osservare invece di quelli che giocano da mouse e tastiera che fanno tutte le robe c'è che non si capisce un cazzo invece da pad quelli che giocano da pad è bellissimo fuck you bro lo vedete? non morire bravo 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 madonna ma questo? droga da cosa figa sto giocando da... dalla calcolatrice figa guardate come li sta laggando ma raga scrivetemi nei commenti se anche voi giocate con due fps figa guardate 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 no 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 poverino è proprio... è proprio nel... in una roba... no 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 chiudi chiudi uuuh a me non è mai successo di morire così nel senso di uccidere il tipo e lui che mi uccide giuro figa aaaah brutta la situa brutta la situa viva ma vecio sette... quante? mille centosessantanove vittorie ma io in quella season li quando ero uscita questa... questa emota avevo soltanto una vittoria avevo giocato pochissimo a fortnite ecco come la clip di prima come la seconda clip scusate vieni ma che grafica di merda chi è il tuo padre? ma che schifo sta grafica non si capisce un cazzo oh mio dio tra l'altro c'è 90 di ping no dio no dio aaaah ha mangiato il lupo ma se spari così vecchio figa secondo me lo uccide figa oh nooo bellissimo sto colpo che prima tra l'altro ha sparato con... cioè è molto più bravo con... che cazzo era finito? che cazzo era finito? tirala ha agarrato la kill? si si agarro una kill stiamo tirando la zona wey mi hai mandato a fuori del mapa wey ma vecchio fuori del mapa? fuori di abajo? si? nooo in un torneo f*** in un torneo ma dai cazzo che brutta f***a cazzo che brutta f***a cazzo che brutta f***a bravo 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 nice cioè guardate come si muovono quelli da mouse a testiera non si capisce un cazzo f***a cioè quelli bravi tipo nooo oh my god oh my god che un psicopat hai ancora un ucciso? questo qua è bravino questo qua è bravino secondo me riuscirà ad ucciderlo dai che riuscirà ad ucciderlo vada scala gialla BAM nooo nooo nice 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 ah questo è italiano lo conoscete? io non lo conosco no raga ok nooo di nuovo con tutta la squadra mi sa cosa? avete morto da fuori? mi fuori da qui no 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 non lo conosco non lo conosco si è fuori da fuori è come il f***o non lo conosco non lo conosco ho finito da tipo 6 santa dove è finito tra l'altro? il santa no no ma perchè lo devi perchè lo devi massacrare attacca adesso lo attacca lo uccide così lo sai cosa vuol dire fare male agli animali allora ragazzi voglio che scriviate nei commenti quale di queste cose era già successa a voi su Fortnite fatemi sapere se questo video vi è piaciuto vi ricordo che per supportare questo canale potete mettere il mio codice creatore Last G nello shop di Fortnite e noi ragazzi ci vediamo nel prossimo video io mi chiamo Last Hero G GG ciao